Rientro a scuola, oggi rientrano le scuole superiori e un ritorno graduale della didattica in presenza. Sì, siamo tutti quanti abbastanza felici di questo ritorno. Il problema fondamentale che noi ragazzi chiediamo è un rientro in sicurezza. Spero che questo sia il giorno e sia l'inizio di un nuovo periodo, un periodo positivo per i ragazzi. La didattica a distanza non funzionava e penso che continuerà a non funzionare. Il rientro in sicurezza è l'unica cosa che chiediamo e vogliamo ottenere. Spero soprattutto che tutti quanti abbiano coscienza di ciò che fanno perché comunque è un rientro particolare come ben sappiamo e spero soprattutto che questa didattica a distanza sia abolita in parte e sia sostituita dal rientro in sicurezza. Pensare di fare un esame di stato tradizionale penso non sia consono alla situazione. I ragazzi si trovano da più di un anno in didattica a distanza e comunque le lacune se non sono ancora emerse emergeranno, si evidenzieranno nei prossimi mesi. Io penso che noi abbiamo diritto a fare un esame semplificato e noi abbiamo diritto ad essere agevolati per quanto ovviamente sia corretto farlo. Spero in un esame di stato più facilitato ma che allo stesso tempo mi garantisce una buona preparazione per l'università. È sempre un momento speciale, siamo un po' emozionati di tornare anche se gradiremo che la scuola ci mettesse a disposizione tutto il necessario per garantire non solo un distanziamento ma anche una sicurezza. Ho la speranza di passare anche questo brutto periodo e di tornare tutti, tutti tali a scuola. Finisce quindi oggi o almeno in parte la didattica a distanza dopo un lungo periodo si ritorna alla didattica in presenza? Beh ovviamente sia la didattica a distanza sia quella in presenza hanno i propri pro e contro, ovviamente però la didattica a distanza non ha la capacità appunto di garantire l'apprendimento e non è stimolante quanto la didattica in presenza. Quale sarà l'impatto con i compagni, con i professori, con comunque questa didattica che sarà comunque un misto tra le persone a casa e le persone in presenza in classe? Diciamo che fa un po' effetto dopo tanto tempo tornare con i propri compagni, rivedere i propri professori e ovviamente dobbiamo adeguarci al periodo e anche se una parte deve rimanere a casa e l'altra in presenza cercheremo sempre di garantire un'atmosfera appunto di classe. Secondo me le modalità potevano essere molto diverse e soprattutto studiate un attimo meglio, mi è sembrato un po' nonostante sia stata comunque una situazione nazionale mi è sembrato un pochino arraffazionata quindi secondo me sarebbero potute migliorare sia le modalità che anche magari l'approccio verso di noi perché comunque ricordiamoci che stiamo parlando di persone. Sei pro o contro e ci sono dei ragazzi che appunto hanno scelto di non tornare in classe ma con dovute motivazioni rimanere alla didattica a distanza? Per obiettività io dico che sono uno tra quelli che comunque ha deciso di rimanere appunto a casa per motivazioni che vanno ovviamente oltre la mia non volontà di tornare a scuola. Comunque in generale sono abbastanza pro perché soprattutto noi ragazzi di quinta ma anche ragazzi di quarta le parti di programma ma anche semplicemente la preparazione all'esame nel caso nostro in DAD non è fattibile e quello che è stato fatto finora non è oggettivamente equiparabile a quello che abbiamo fatto negli anni precedenti. Oggi è un giorno speciale per tanti studenti di Torre del Greco ma in generale di tutta la campagna, oggi si va a ristabilire una naturalezza nella didattica anche se in parte. La speranza insomma è quello che la scuola riesca insieme agli studenti a rispettare tutte quelle che sono le norme di sicurezza in materia di prevenzione anti-covid. Si avvicina anche il momento dell'esame da studente della classe quinta, come ti aspetti l'esame finale di maturità? Mi aspetto un esame sicuramente diverso dato dal fatto che comunque in un anno si sono andati a formare per tanti ragazzi molte lacune sul proprio percorso scolastico quindi sicuramente bisogna dare dei vantaggi a questi ragazzi affinché riescano a diplomarsi serenamente e senza incontrare grosse difficoltà. Sperando poi negli anni prossimi di ritornare a quello che è l'esame di stato classico a cui eravamo tutti quanti abituati ad assistere. Le scuole italiane secondo te sono pronte a questo rientro in presenza rispettando tutte le normative di distanziamento e di sicurezza sanitaria? Le scuole italiane non credo siano pronte ma non per colpa della scuola ma per colpa del momento storico però insomma siamo fiduciosi e speriamo che tutto vada per il verso giusto.